Il 20-25% dei trattamenti fatti in un reparto di urologia riguardano l'endurologia, che è questa branca della specialità di urologia che tratta diagnosi e terapia delle patologie della via urinaria superiore, dove la calcolosi è quella maggiormente rappresentata. 27esimo posto a livello mondiale, primo urologia italiana, secondo la classifica stilata della rivista americana Newsweek. Un reparto di lunga tradizione dove si è scelto di dedicare uno spazio esclusivo all'endurologia, come spiega il responsabile dell'unità operativa semplice Paolo Beltrami. Sono più di dieci anni che questa attività occupa un ruolo abbastanza preponderante del reparto. La particolarità rispetto all'attività endurologica degli altri ospedali sta nel fatto che abbiamo una sala dedicata, quindi la nostra attività non toglie nulla all'attività chirurgica ed endoscopica di un reparto, in quanto abbiamo una nostra sala che quindi funziona 5 giorni a settimana in maniera standard, più le urgenze, con del nostro personale dedicato, sia medico che infermieristico. Questo consente di avere la possibilità di trattare in maniera sia d'elezione sia d'urgenza qualsiasi patologia della via urinaria superiore, senza occupare spazi per patologie neoplastiche o non neoplastiche della chirurgia tradizionale. Quasi 700 fino a luglio gli interventi eseguiti dall'equip di endurologia, un reparto che è sempre lavorato anche nel periodo della pandemia. La nostra chirurgia, anche se viene da qualcuno definita chirurgia di dei ospital, in realtà richiede comunque un ricovero, però è sempre un ricovero breve, che può variare dalle 24 alle 48 ore, sempre che non avvengano complicanze, che fortunatamente rappresentano una minima percentuale delle probabilità.